Salve a tutti ragazzi, eccoci qui, dunque, faremo questa missione qui, quella della caccia al tesoro, schemi di potenziamento della scuola del gatto, e dobbiamo andare di là. Che è sto cazzo di cavallo? Go, go! Allora, è qua vicino quindi facciamo presto. Oh cazzo, faster! Allora, eccoci qua. Va bene, scendi gatto. Che cazzo devo andare, no? Di qua? Dove cazzo mi porta sto rombo? Ah, di là? Che cos'è? Panico! L'abbiamo fatto in derapata, l'abbiamo fatto. Ah, di qua. Ok, aspettate che accendiamo la torcia, va. Posso vedere una mazza. Ah, sì, perché prima dobbiamo sempre trovare il simbolino del gatto in questo caso. Ok, dove cazzo va? Aiuto, eccolo là. Panico! Qua. Hmm, magari voglio guardare un po' di più. Bene, bene, bene. Molto bene, Geralt. Possiamo muoverci, per favore. Grazie. Non sembra esserci nulla di interessante. Ricordiamo un po' di roba. Ma sempre solo funghi. Eh, qua c'è. Terroschema del gatto, ok. Va bene, abbiamo già finito la missione, giustamente. Ma è giusto. Ok, era solo questo, così almeno l'abbiamo trovato. Quindi, in teoria, quella missione l'abbiamo fatta, infatti non compare più qui. Queste due, Care Moren, quindi dobbiamo aspettare. Dunque, direi di fare qualche contratto a questo punto. Abbiamo questi tre che possiamo fare, 25, 24 e 24. Parla con Cart Desert. Andiamo a parlare con Cart Desert, che non so perché è, è ostia, però va bene. Scusate, 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 panico. Panico. C'era una roccia in mezzo a str... Dov'è il villaggio che c'era qua? L'immortaggi loro me l'hanno spostato. Porca di quella lurida. Ah, dall'altra parte stava. Eh, vabbè, pazziato. Qua tra l'altro, forse c'era qualcosa, tipo questo. Vabbè, possiamo cadere lì, a vedere. Cazzo, l'abbiamo. Andiamo a dare un'occhiata, tanto siamo qua. Quando si può... Ah, ok, adesso non è che non importa. Ligni? Ci abbiamo, sì. Ah, aspetta che non ho Sunny, non ho. Non ho bombe. Non ho bombe, cazzo. Eh. Eh, non possiedo la bomba. I mortacci, tua. Cala puttana. Cattiveria, ragazzi. C'è, abbiamo adesso la bomba? Benissimo. Ma perché l'avevo usata per il coso dei... dei rodi là? Quello. No, 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 sbagliato. Bottiglia. Testa fatica, ma... Ah! Birra, birra, no, no. Va bene, boh. Abbiamo, abbiamo fatto. Torniamo a dare Rutilia. Vabbè, a parte che... Dovrebbe essere qua sopra il... Il villaggio. Gun. Aspettate, eh. Mi ricordo che sei qua. Ben clamma. Ok. Sì, è qui qua. Allora. Eh, me l'avevo dimenticato di riposare, per quello che non hanno più bombe. Perfetto. Allora. Vediamo di andare... Qua c'è una missione, però. Porca puttana. Allora, andiamo lì un attimo. Aspetta, va. Meditazione. Un'ora. Così ripristiniamo le bombe. Perfetto. Andiamo lì. Un'altra volta. Andiamo avanti così, andiamo. Su, giù, su, giù, su, giù. Come dei coglioni. Beniamo un po' il culo, gara. Usato un attimo. Ok. Allora, qui è dove abbiamo fatto strage. Panico. E dobbiamo andare qua, poco più in là. Aspetta, ne prendi tutto. Vediamo se non ci fossero domani. Ok, qua c'è un'altra missione. Vediamo che cosa succede. Sì, ma stai benissimo. Cioè, questo vuole morire. Ah, sì. Sì, sì, è infatti il proprio sopra. Eh, ragazzi, non lo so. Noi abbiamo delle pozioni da witcher, però. Sorry, can't do that. I beg you. No. No, why the hell not? You disgusted. The fear of your conscience. God's damn it, do it quick. I pay you. If you won't. Get out of my sight. Let me die in peace. Quindi, possiamo riparlarci per ucciderlo? If you won't, get out of my sight. Let me die, priest. Abbiamo perso la quest, probabilmente. Vabbè, pazienza. Mi sembra molto... Allora, torniamo su. Cioè, io l'avrei anche ucciso. Ma... Ci può ricaricare? No, merda. Aspetta. Carica. Dove avevamo caricato... Salvato qua. Riproviamoci. Proviamo ad ucciderlo stavolta. E facciamola quest uccidendolo. Vediamo un attimo. Adesso gli diciamo di sì stavolta. D'accordo. E' sicuro? Io lo chiedi. Faccio velo quick. E poi lascio i miei rimane. Allora. Sanghi. Adesso la faccio. Pensavo che i lasciam alcuni dei miei ragazzi. Ma non ho bisogno di niente. Ora. Eeeh. E' sicuro. E' sicuro. E' sicuro. E' sicuro. Vabbè, quindi prendiamo Vediamo se c'è qualcosa di interessante Direi di no Allora, direi di no, quindi andiamo su Allora, torniamo indietro per la treccia In parte che qua ci sono altre robe Quindi tanto vale, aspettate Qui, qui innanzitutto E esploriamo un po' tutto, visto che siamo comunque qui in zona Tanto vale fare tutto quello che c'è qui Tanto comunque questo video Sarà un video di side quest, ovviamente Anche perché non Ma fa culo E qui viene, bravissimo Faccio un altro Possiamo Fa culo Eh, bisogna buttare la bomba Sennò continua a venire fuori Ora scappa, gara Boom 20% di esperienza, ok Continuiamo Continuiamo, tutto tanto qua Ho visto che c'erano altre cose Mentre poi le facciamo Andiamo qua verso il maniero di Reardon Mamma mia che difficile Dunque io dovrei avere un'altra bomba Se non sbaglio Andiamo dritti per dritti Cazzo c'è qua Un'altra Tana Miga Tana di Necker come succede domani Questi guerri sono bastardi Ma fa culo E basta Cazzo Ok, vai qua Ok, perfetto Ok, perfetto Andiamo di preparare un po' di roba Perché i Necker Possono essere anche interessanti Ok, adesso dobbiamo riposare un attimo Perché se l'altro è un altro di questi Mi fotte Perché non ho più bombe Ok, adesso dovrebbe esserci un'altra Dai, cazzo Un'altra cosa qui E poi andiamo al villaggio Basta Adio C'è un salvataggio Eh, c'è un'altra di Necker Figura Era facilmente ipotizzabile Ma fa un culo Ma fa un culo Ma basta, cazzo Cos'è? Andiamo a chiudere Questa cazzo di bomba Che va già Ma cacciata Ok, perfetto Bravissimo Ok, abbiamo fatto tutto Allora, riprendiamo la mappa E andiamo Qui In maniera Di Rird Sì, effettivamente è stata più la rotura di balle Che il guadagno di esperienza Proprio Non importa Va bene, abbiamo fatto quelli Allora Ok, adesso arriviamo qui al Cangellozzo Cancellozzo Selezioniamo il viaggio rapido Selezioniamo il viaggio rapido E ce ne andiamo Dov'è, 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 dov'è La vacca Ah, dentro la taverna Bene Sarà un ubriaco Tipo questo Perché è mezza morte per te Ehm, di sopra Dobbiamo da salire, Greer Ah, qua c'erano i due che si inchiappettano No, sotto Gheral Gheral, non tanti Beh Eccolo qua Sotto proletari Sotto cazzo Eh, Kurt Lysart Kurt Lysart No, lupo, lupo, lupo Ah, la scuola del lupo No 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 Grazie a tutti. Beh, l'occuperò io. Va bene, ragazzo, andiamo a farlo. Allora, dobbiamo vedere dove andare, sono 430 passi. Sono un po' di chilometri da farla pietro. Dove cazzo sto? Ma io tutte le volte come un po' di bollione. No, va bene, è stata più veloce per vista. Allora, vediamo dove dobbiamo andare. Ah, ok, andiamo a capanna isolata. Perfetto, dobbiamo andare di qua. Abbiamo una salvata e ormai siamo un po' vicini. Proviamo a beccare frutteto, sì. Aspettate che voglio un po' di queste robe qua. Caprifoglio. Scusate, intanto vediamo se... Aspetta, panico. No, sbagliato. Alchimia. Vediamo se riusciamo a creare qualcosa. Tipo il decotto di cuocatrice. Credo come se ci fosse un domani. Eeeh... Mutaggine rosso... Questo qua... Ma sì, dai, creiamo. Mutaggine rosso. Creiamo anche mutaggine blu. E basta, va. Ok, andiamo avanti. Scusate. Ho chiato il microfono. Questo brutteto. Qui c'è un mercante itinerante a cui possiamo parlare due secondi. Scusi. Un mercante itinerante, vediamo. Vabbè, questi mercati hanno sempre delle cose molto interessanti in realtà, eh. Questo cazzo, eh. Ingredienti alchemici. Un paio possiamo anche prenderle. Un paio. Poi non so se... Non si sa mai. Hanno cose interessanti. Possiamo vendergli qualcosa. Questa la posso anche vendere, tanto non è che... Ah, queste, sì, come diceva, eh. Vengono pagate di più dai fabri, effettivamente. Vende cose che non si trovano facilmente, però, eh. Vischio. Vite degli ginati, eh. Prendiamone un po' a caso, non lo so. Allora, riusciamo poi a fare qualche... Qualche pozione. Questo che cazzo era? Soffione, soffione. Soffione, soffione. Possiamo poi magari fare qualche pozione particolare, non lo so. Nostrex forse l'avevo già... Già vista, non so via. Vediamo. Vediamo. Vediamo se è servito a qualcosa. Direi di no. Direi assolutamente di no, ma non ci importa. A noi non ci ne frega niente. Vediamo se ne ho fatto. Ok. Facciamo creare questo. Facciamo creare questo. Ok. Questo dovremmo avere, secondo me... Aspetta. Questo tra l'altro è vuoto. Perché? Ah, forse perché l'ho usato per quello lato. Venti di intensità del segno. Direi che va bene così. E forse c'era anche questo da usare a posto di questo. Quattro touch. Perfetto. Benissimo. Allora. Questa è la casa infestata. Entriamo. Ragazzi. Allora. Usi il senso di Witcher per ispezionare la casa fantasma. No. La casa infestata. Fantasma. Vabbè. Ehm. Dove ho trovato la porta? Cazzo sta la porta qua. D'ingresso. Scusi. Cazzo succede qua? Come si è? Ah. Ok. Ho trovato la porta io però. Dove si entra questa cazzo di casa di merda? Ah. Lì c'è la porta. Aspetta. È segnata lì. C'è una porta qua. Ok. Che cos'è? Ok. Siamo nella casa. Vediamo. Tensi rubacca. La casa tremma ma uno spettro mi avrebbe già attaccato. Quindi non è uno spettro. La dura salita verso la grande... Ah sì. Sono i soliti libri che parlano di Radovid. Che ne esaltano. Attenzione. Il controllo non sarebbe... Beh... Quello. Cassetti attenzione. Aspetta. Scatterato. Probabilmente per portare i ghosti. Eh. Superstitione. Ma anche tu che in realtà avevi fatto cospargere di sale alle porte quando avevamo trovato il botchling. Non so se si ricorda. Non so se si ricorda. C'è qualcosa là dietro. Ok. Sì. Eh. C'è una porta. Cosa di interessante. Qua direi di no. Diamo una salvata e usiamo il segno Harder per aprireci un bar. Così si è inserita di Witcher per ispezionare l'accanto. Attenzione. Eh. Ma mi sa che c'è qualcosa di brutto. Allora, vediamo qua. Leggiamo perché questo fa parte della quest. Allora. Quando si ha a che fare con creature di questa natura è fondamentale trovare il delicato equilibrio tra la catena e la briglia sciolta. Infatti l'abile elementalista che ha intrappolato una creatura magica non deve mai cedere al pericoloso istinto di lasciarla libera. Scelta che ha sempre conseguenze spiacevoli e che non gli procurerà altro che noia. Allo stesso modo però non deve stringere troppo il gioco del suo servitore altrimenti non ne caverà nulla. Questo infatti diventerà inerte come una zolla di terra. Il segreto consiste nel preparare una barriera magica rinforzata da un cristallo di potere. Il cristallo è della massima importanza. Se dovesse rompersi la barriera accollerebbe. Ma non c'è da preoccuparsi perché non esistono asce o spade in grado di infragio. Questa barriera potrà imprigionare la creatura senza limitarne i poteri. Anche se per riuscirci occorrono studi ed esercizio. Quindi una pratica non adatta a fannulloni incapaci. Bene, devo ricordarmi di chiedere a Ducas di ricopiare il testo che ho appena scritto e di adattarlo per la pubblicazione. Dove diavolo sarà finito quel mascalzone? L'ho mandato a comprare formaggio e inchiostro secoli fa. Ho visto che c'era qualcosa altro. Quindi dobbiamo scendere in sostanza. Qua ho visto che ci si poteva calare. Acqua. Forca puttana, volevo l'acqua io però. Qua si va da qualche parte? Direi di no. Direi assolutamente di no. Dall'altra parte? Residenza dei Moldavia. E mo che cazzo devo fare io? Allora. A meno che non mi devo buttare proprio in acqua in acqua. Aspetta. Forse sembra piuttosto alta l'acqua però. Qua magari ci si riesce. No. C'è piuttosto basso, volevo dire. Non alta. Eh, ma non c'è un cazzo Gerard. Sali? Ah no, c'è l'interruttore. Mica l'avevo visto. Rincoglionito che sono. Eh, l'ho sentito anch'io. Eh, l'ho sentito anch'io. E' un po' di Tana. Sali Gerard. Qua dovrebbe essere qui? Questo? Ah, c'è ancora lì. Aspetta. Ho rotto la barriera. Attenzione, panico. Guarda! Questo mi sa che è forte. Oh! Gia cazzo! Go mamma. Mamma mia che cattivere. Mamma mia. C'è un passato attraverso. Mamma mia. Mi metto due anni così. non è che con qualche arsegno gli facciamo più male? no, vanico! ma gli ha sempre preso in pieno vorrei gli faccio molto male però eh mamma mia che cattiva ahia cazzo ahia non ho sbagliato? è diventato più cattivo questo ahia forse siamo noi che stiamo rischiando un periodo di più dato mamma un paio di colpi creativi li abbiamo messi eh dai è qua Gherent cazzo ah gli facciamo molto però mamma mia ok l'abbiamo fatta cappuccio di mannate ehm a parte l'arma eh no, fa meno danno però tra l'altro io ho una cosa che odio e che non sopporti in questo gioco che mi cambia questo vabbè adesso ci ha messo quello che mi va bene perchè è un po' di causare smembramento ma vabbè allora possiamo tornare indietro andiamo a riscuotere la ricompensa che cazzo fai Gherent ti tuffi sull'asfalto sul pavimento amiche allora aspettate guardo la strada ok di qua di qua perfetto qua dovremmo avere il si qua un corso per dai eh e dobbiamo andare di nuovo qua a Novigrad e qua molto bene se non mi ricordo male qua c'era si poteva raggiungere il corso da qua siamo prima e che cos'è? se l'ho imparato quindi non c'è più quello che si fai chiapetare salve salve si sottoprolettare ti ho ucciso ti ho liberato la casa si? come ti dovrebbe dare più problemi una piccola rinnovazione che dovrebbe essere fit per te per andare in vero? perché il prezzo di estate ha spiegato chiaramente quale precisamente era il problema? l'elemento di terra è entrato nel cellulare era solo cercando di uscire ha quasi ammolizzato l'esercito ehm è molto più interessante che un ghost è sicuro nel cellulare che hai detto non è un errore ma che cazzo non è un errore 300 non è poco non è che 200 non è poco ok allora prossima quest sempre come contratto da witcher direi abbiamo queste due ehm palla con l'ardemana riguardo al contratto vabbè facciamo questa palla con i testimoni ah allora sempre allo solito andiamo qua dove va? no minchia due vacca puttana se siamo lontani andiamo al faro va andiamo al faro dove abbiamo trombato trissel eh uh a cavallo ecco di qua venga 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 signor cavallo allora di qua si quelli sono i soliti lupi del cazzo che tipo spreco di energie e che quant'altro facciamo qua aspetta aspetta e poi se se witcher patrulla eh esagera direi che cominciamo la cosa fino al luogo dell'attacco fino al luogo dell'attacco proseguire le tracce del carro fino al luogo dell'attacco attenziale attenzione diamo 12 port Necker, ah, qua ci sono i necker Che due coglioni, ragazzi Crepa, stronzo Ok Mecchia, sti necker di merda Però, eh, ragazzi Gatto, ma non puoi mancarlo Così, eh Oh, che palla Ok Ecco qua, caro Esamino il luogo dell'attacco del mostro Ok Cos'è che sono quelle robe lì? Ah, delle o... delle importe Qua 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 Mi fa vedere un cazzo Ah, ma questa credo sia le impronte del nano Praticamente Eh, questa non me le fa vedere però Boh, ma se l'ho detto che sanguinava ma non mi ha detto un cazzo Vuoi seguirle impronte Ah sì, perché l'area è piuttosto grande E' un cazzo Ecco qua il nano Ah, poi c'era l'altro pezzo, è vero? E qua c'è l'altro Non c'era l'altro pezzo Non c'era l'altro pezzo Vediamo gli altri Lì Vediamo la salvata, va Così, è giusto un'amicizia No, neanche qua, che era Non c'era l'amorazione Non c'era l'amorazione Altri? Lì Ok Dai Dai Salviamo un attimo Eh sì, qua sì c'è un totem Come si fa a distruggere il totem? Con le spade? Ok, metti via la spada Ok 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 Mamma mia che brutto Eh no ma se cominciamo così cazzo Quella vacca anche i corvi ci manca Aspetta Più vacca puttana Abbiamo beccato una volta, no? Neanche uno Posso Posso fargli del male colpendo In qualche modo Che li facciamo male in realtà Ma Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Dov'è? Dov'è? Ho visto il nome eh Solo per quello che l'ho preso Dai Eccolo qua Eh cazzo Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua che cazzo è sta roba no i maiali no cazzo madonna uva cattro i lupi poi caputana e mi sa che sono spostato no dov'è e poi che cazzo c'è pure qua mamma mia che roba brutta che roba brutta unicorno nero totem no no non mi interessa quello dell'esperienza luce non volevo questo no piuttosto ok allora direi di possiamo tornare indietro magari salve scoglietta ah era gli scoglietta quindi alla fine mi hanno anche aiutato aspettate che non so dove cazzo sto dove sto andando ok eh bacca troia sai andiamo qua dai aspetta eh scusi signorina scu... palo? palo? cioè mi sono mosso talmente tanto che sono addirittura andato a trovare gli scogliettel del... di parecchi video fa non so se vi ricordate il video fa si è titolato appunto scogliettel allora eccoci qua c'è il cavallo nostro che è tutto tranquillo e boh dobbiamo tornare indietro torniamo qui a oca di scinta all'oca di scinta cazzo ragazzi cazzo è meno uno scusi ma perchè? cosa succede con la cazzo? devo attaccare la bambina ma no ti prego Geralt facciamo abbastanza pena però eh perchè ci sono incazzati con me? aaaah non ce l'ho fatto io uuh 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 ma lascia stare Geralt è una bambina cioè stiamo qua a divigare una bambina che cazzo si entra a sta merda di oca di scinta uuh 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 ah era questo sì sì vabbè benvenuto Master Witcher ho completato il lavoro ho matato il lesion che attaccato i lombardini oh questo è bellissimo Ok, abbiamo tenuto il livello, perfetto. Ok, voglio vedere quanto ci aveva dato. Ci serve però un'altra armatura, così siamo piuttosto bene. Allora, andiamo un attimo avanti, personaggio, abbiamo, no, l'ho sbloccato un cazzo. No, più che altro che mi interessava, vabbè, questo possiamo anche portarlo a 5, ok. Ok, perfetto. Allora, direi ragazzi che per questo video possiamo salutarci qui, noi ci vediamo con il prossimo videogameplay. A questo punto credo che andremo avanti con... No, scusate, con i contratti, ci mancano questi due, li vedremo probabilmente nel prossimo video. E poi ci dedicheremo, torneremo sulle nostre missioni che stiamo facendo a destinazione Skellige. Alla prossima. Grazie.